buonasera a tutti in questo nostro appuntamento vorrei parlare insieme a voi con voi di quelli che sono i sintomi spesso quando una persona non sta bene quando avverte un disagio psichico il suo corpo la sua mente è un fiorire di sintomi cosa sono effettivamente questi sintomi come ci si comporta nel trattarli la guida della psicanalisi ci insegna qualcosa davvero di prezioso rispetto al comportamento da intrattenere con questi circa mi viene da utilizzare questo termine il rispetto che il clinico deve maturare ed avere nei confronti dei sintomi dei suoi pazienti come il padre della psicanalisi ci insegna i sintomi sono una delle modalità attraverso cui l'inconscio quello sconosciuto che abita e alberga in noi si manifesta esattamente una delle le modalità quindi attraverso cui il nostro inconscio ci parla sono i sintomi che hanno una valenza assolutamente particolare enigmatica vanno cioè decifrati interpretati tradotti letti non bisogna avere fretta di togliere dei sintomi i pazienti un sintomo può essere l'ansia può essere la formazione di certi comportamenti ritenuti dolorosi un sintomo può essere tutto quello che in qualche modo fa problema nel soggetto e diventa un interrogativo per lui ecco quando si dice che ai sintomi bisogna approcciarsi con rispetto significa dire che non bisogna avere la fretta di estirparli da chi ne è portatore bisogna invece avere la fretta affettuosa direi di conoscerli di interrogarli di questionarli affinché si possano decifrare e possano svelare il messaggio di cui sono portatori non ci si ammala mai a caso non emerge mai un disturbo senza alla genesi una motivazione un perché la possibilità analitica è quella di avvicinarsi quindi a queste sintomatologie non con l'intento educativo di correggerle o con quella violenza atta a toglierli dal soggetto ancor prima che questo possa essersi avvicinato al sapere che racchiudono un sintomo è uno scrigno doloroso che però racchiude un tesoro una verità una verità inerente alla singolarità del soggetto in cui quel sintomo è fiorito è sbocciato la possibilità di fare come si dice tesoro della propria sofferenza è proprio questa interrogarsi sul perché capire il nome particolare che questa porta affinché si possa trovare una possibilità più profonda più fertile più armoniosa di essere il rapporto con se stessi e con gli altri perché la psicologia individuale come appunto ci insegna sigmund freud non è mai solo individuale è sempre connessa all'altro per questo viene detto che la psicologia individuale è sempre una psicologia sociale di interazione dinamica grazie a tutti Grazie a tutti.